Benvenuti a Gossip è di più. Restate sintonizzati e non dimenticate di iscrivervi al canale. Amanti del gossip, mettetevi comodi e preparatevi a sgranare gli occhi. Il mondo dello spettacolo è stato scosso dalle rivelazioni esplosive dell'ex tronista di Uomini e Donne. Sì, parliamo proprio di lui, Jack Van Oren. In un'intervista che ha lasciato tutti a Il cuore pulsante del dating show di Canale 5 ha rivelato il motivo dietro la sua improvvisa uscita dal programma. Ma andiamo con ordine, perché il gossip è soccoso e non vogliamo che perdiate nemmeno una goccia. Ecco il motivo shock. Van Oren, che ha incantato il pubblico di Uomini e Donne prima come corteggiatore, poi come tronista e infine come opinionista, ha confessato. Mi è stata diagnosticata una patologia autoimmune. Sì, avete capito bene. Ma c'è di più. Maria De Filippi e Raffaella Mennoia, pilastri indiscussi di Canale 5 e del cuore di Jack, sono stati al suo fianco in questi momenti difficili. Maria, Raffaella e tutto il team di Uomini e Donne hanno compreso la gravità della situazione e mi sono stati vicini. In questi momenti difficili si riconoscono i veri amici. E posso dire con certezza che Maria e Raffaella mi vogliono bene, ha detto Jack con gli occhi lucidi. Ma andiamo ancora più nel dettaglio del drama. Dopo la diagnosi, la vita di Jack ha subito una vera e propria rivoluzione. Mi sono ritrovato a dover abbandonare il mio piano A e creare un piano B, ha raccontato l'ex tronista. Ma oggi posso dire che questa sfida è stata la mia più grande fortuna. Il nostro Jack Van Oren, non solo ex tronista, ma anche modello e attore, ha voluto però tranquillizzare tutti i suoi fan. La mia situazione è sotto controllo. Ora sto bene. Meglio di prima. Ho ripreso a fare sport, a lavorare, a fare tutto. Mi sento una persona sana al 100%. Ma cosa fa ora Jack? L'ex tronista, cuore di Canale 5, si dedica all'azienda di famiglia, producendo laminati piani Made in Italy. È un bellissimo lavoro, molto complicato. La televisione mi manca, ma ora ho una bellissima attività dove cerchiamo di essere sempre sul pezzo. E le sorprese non finiscono qui. Jack Van Oren ha anche rivelato di essere assolutamente single. Che dire, ragazze, è la vostra occasione? Insomma, il mondo del gossip non smette mai di stupirci. Rimanete sintonizzati con noi per altre succulente novità dal mondo di Canale 5 e, ovviamente, dal cuore pulsante di Uomini e Donne, il nostro adorato Jack Van Oren. Continuate a seguirci per altri aggiornamenti. E non dimenticate di iscrivervi al canale. Alla prossima!